un bel paninozzo che c'ho fame allora ciao caro grazie mille diego pastore per la sub grazie ciao caro come sta porco dio porco dio porco dio porco dio porco dio porco dio non mi funziona la wifi sto nerdando a cold war per dark matter ma porco dio non mi va la connessione porco dio ragazzi ragazzi non scrivete queste cose porco dio buon pomeriggio gabrone con tutti i soldi che fai con ste live potresti anche comprarti un bel telefono un saluto a quel vecchio di merda che hai vicino pelato infame 69 39 no scusa scusa e non l'ho fatto apposta era un ragazzo che ha scritto una puttata no c'è ragione scusami scusami thunder cold con thunder corti no mi distoso completamente da quello diretto non mi piace dire che non mi piace associarmi a queste cose per favore per favore caro no mi scusi veramente non non l'ho fatto apposta però allora non mi sta bene questa cosa qua tra bestemme che si seguono tutto quanto già si lavora male ok c'è ragione c'è ragione allora già si allora vabbè e non no c'è ragione scusami 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 evitiamo di di controbattere lasciamoli lavorare porco due mannaggia teta undercorti porco dio sto vecchio di no basta 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 scusami caro adesso vado via adesso vado lo so ma anche a me da fastidio non capisco perché mi distoso completamente rockinson sei un maleducato sei rockinson mi distoso competente sei un maleducato severo период 자연ico 5 5 99 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 109 0 109 0 9 0 9 0 9 0 0 grazie zeta nico per la sub tutto bene tutto bene che state combinando qua in giro ci sta cavolo scaspera non pensavo quanti avete io sono 99 e che ci fate in giro di bello ma questo barista del caso si deve fare i cavoli suoi testa dice porco dio porco dio porco dio porco dio 7 26 25 26 28 28 26 27 28 29 3 6 5 27 29 28 26 26 27 28 27 6 3 7 3 9 3 gabbro puoi dire a quei tre falliti dietro di te di nascondersi dico proprio a boiibabuini no no ragazzi mi dissocio da sta roba gizzi è un pirletta chi sono quei tre falliti dietro di te orco dio ma ok mi risocio completamente for che stanno non permetterti mai più citiamo giovanni e giacomo gavro occhio che in quella piadina ci hanno sburrato come l'hanno fatto nella madre di quel cretino con la maglia bianca di marco mi dissocio completamente no ma chi sei tu marcos ah di narcos io pensavo di marco ok va bene no ragazzi sono completamente non scriviamo se stronzate effettivamente trovano una certa simone somiglianza tra te e sickwolf quello romano che non ci capisce un cazzo di calcio però è simpatico guardano tutti tanti lillipop giusto onestissimo ma che sono il piano adesso no ma è un mio amico questo ma sai che sembra grazie a c pro cap sei risultato positivo ostia pochia porco dio porco dio porco dio porco dio doppia bussami risploso con una ragazza ha detto ovviamente da questi commenti mi dissocio saluta carla 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 se vorresti mettere un dito in culo al tipo con la felpa della marina no 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 grazie guarda sono quasi fidanzato quindi tranquilli grazie per il centro grazie poi gabrone che ne dico di organizzare un rio dalla moschea di san pietro e farci esplodere come lui no 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 e le carli mi dissocio completamente no anch'io non voglio esplodere parlando di esplosioni guardate chi sta per passare dietro no ragazzi no ragazzi dai no 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 ragazzi no 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 mi dissocio completamente da sta cosa niente ragazzi stato un piacere ciao ciao ragazzi ciao posso farvi un paio di domande per la mia pagina facebook sono in diretta sulla mia pagina sul mio canale sto un po documentando quello che sta succedendo in questo periodo e se io vado a partecipare facendo cioè facendo appunto no vabbè se sono domande che non mi va di rispondere no no posso non è un problema se vi riprendo sono in live ok e prima domanda quali sono gli aspetti positivi di questo primo lockdown rispetto a quelli del secondo di quest'ultimo sì esatto che schifo di cappello il tipo seduto sulla panchina porcodio vignognati 4529 è un bellissimo cappello il tuo in verità mi piace un sacco ma sicuramente fa freddo quindi non c'è voglia di uscire ok chiaro e solamente questo c'è come aspetto positivo ok per te invece non ci sono perché il lockdown è sempre brutto alla fine esattamente vero vero ti ho ragione grazie ragazzi scusa mi hai un bellissimo cappello davvero buona giornata scusa posso chiederti se posso provare un trick posso chiederti di provare un trick grazie mi puoi riprendere che sono in diretta il gab si sono il gab sono esattamente io bello comunque bello costumizzato grazie perché ti fermi a inquadrare i tossici in piazza che poi ti bannano per stupefacenza di ucata combasca no ragazzi appoglio pure la virginità no ragazzi mi rispetto completamente questa cosa ci sono ci sono ci sono ci sono da posso fare la posso fare provo l'ultimo scusami caro guarda più fatica del previsto c'era c'era grazie caro grazie mille ci vuoi fare un trick per bello e tu che hai la telecamera potresti inviarmi la foto dei tuoi no no niente foto dei piedini grazie gabrile pari cento però scocco ultimamente allora adesso faccio adesso faccio esplodere il signore lei che cosa guarda vecchia no ragazzi thunder corte mi rischio completamente la sta cosa bobby is the new messia grazie per i cento no non scrivere determinate cose no troviamo un fioreo 1 ore 29 porco dio 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 scusate scusatemi perdonatemi scusate no ragazzi non bestemmiate per favore scusami attenzione attenzione comunicazione di servizio all'interno di questo supermercato è assolutamente vietato bestemmiare se tale regola verrà violata verrete sanzionati con una multa molto salata vi invitiamo dunque a seguire le regole altrimenti il qui presente gabrone ve lo sbatte in culo di madonna bastarda no 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 mi rischio completamente scusate perdonatemi ficcatevi tutti un passo no basta winch mi rischio completamente a sta cosa smettetela ok posso così che buoni che sono gli oro ciocchi mi piace quando li sciolgo e me li inieto nel glande porco dio no no ragazzi non è vero non è vero non è vero thunder corti non direi sto stupidato grazie osak per i cento ragazzi basta bestemmiare per favore scherzo porco dio porco dio a tutte le vecchie di merda spero vi venga un ictus no 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 mi dissocio completamente osak daaaah mannaggia a te c'è un birichino sai c'è un birichino sai c'è un birichino sai c'è un birichino sai questo supermercato fa schifo eros d'este 69 89 no biscotto 8 88 porno 69 voglio fare un 69 ks no bisogna capire solo sta roba dai grazie sversa per i cento avviso importante da applicazione immuni è appena stata confermata la sua positività al covid-19 SARS-CoV-2 ha pregato di recarsi immediatamente all'ospedale covid più vicino e di comunicarci i suoi contatti negli ultimi 14 giorni inoltre le chiediamo di farci un bocchino col culo grazie no 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 non è assolutamente vero ragazzi grazie thunder corti per i cento buonasera signora cassiera deve sapere che apprezzo molto il suo lavoro nonostante il mio glande sia enorme no 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 ma perchè devi dire se sbogliate scusami caro mi sto divertendo sinceramente no meglio così guarda mi preoccupare ciao a tutti io sono gab e sono un ragazzo estroverso mi piace mettere gli spaghetti in culo alle persone proprio per vedere la vostra profondità no non è assolutamente vero ragazzi per la collaborazione provare non costa nulla provare per credere mi dissocio completamente non è vero ficcati le uova nel culo cassiere di merda no no ma smettila vinci perchè devi essere maleducato mi dissocio completamente vinci ciò fa un secondo sei un grande gab chiedi al cassiere se gli piace la banana piccola o quella grande sk 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 d r f g t r f g n m d f g 69 59 59 59 39 29 19 9 grazie pari e tu commesso fai pagare meno il nostro gab che è un ragazzo molto simpatico ma soprattutto è il pipino grosso No, non serve il lubrificante a Tyler, tranquilli. Vorrei prendere un uvetto Kinder, ci stanno gli uvetti Kinder qua? Ok, ecco lì, Kinder sorpresa, ne prendo uno. Siamo un sacchetto? Sì, grazie. Chissà che sorpresa ci riserverà questo Kinder sorpresa. Secondo me una sorpresa sensazionale. Potevi stare attento però eh? Non metterla davanti alla persona. Davanti alla persona era qua, non è che te l'ha messa in mezzo alle palle. Stai attento anche tu la prossima volta. Stai attento anche tu la prossima volta. No, Andrea, niente, non se la schifo perché hai detto una porcata allusinante, cioè è scritto solamente una porcata di avevi strato storici. Messaggio da mamma, Diofra dicio ma che hai combinato al gatto? Perché hai il culetto sfondato? E il mio doppio dildo rotante dov'è? Dov'è? Nove? Perno? Povno? Contorno? Il cassiere Ale Morrohi di Madonna Rotta. No, no, no mi rifaccio compendere questa cosa. Il comminso era molto simpatico. KS, 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 KS. E era molto simpatico. assurdo ragazzi vediamo cosa ci sta dentro questo kinder sorpresa oh mi sa che l'ha fantumato ciao ragazze scusate questa voce che sentite ma purtroppo vi sfonderei il culo mi risuso completamente a sta cosa grazie